Oroscopo della settimana. Dal 15 al 21 aprile 2024. Ariete. Amore. La settimana in corso sarà abbastanza tranquilla in amore, sia per chi è impegnato in una storia, sia per chi è singolo e ancora non ha trovato la persona giusta. Non è escluso che possano arrivare delle emozioni piacevoli, magari anche nuove. Lavoro. Professionalmente avrete delle energie abbastanza interessanti da poter ben sfruttare in ufficio. Anche la posizione di Giove per questi giorni sarà favorevole, e potrebbe aiutare tanto sul lavoro. Toro. Amore. Questi giorni di aprile saranno influenzati dalla posizione del pianeta dell'amore, che potrebbe rivelarsi fondamentale. Dovrete quindi prestare attenzione ad alcuni aspetti dei rapporti. Lavoro. Il desiderio di lavorare a qualcosa di nuovo, di cambiare strada, o di iniziare un nuovo progetto, si farà sentire molto. Avrete le energie giuste per dare il meglio. Gemelli. Amore. Attenzione alle relazioni che stanno attraversando un momento difficile, poiché le stelle potrebbero complicare le cose, e mettere alla prova la coppia e il sentimento. Tuttavia, chi è realmente innamorato o prova qualcosa di forte non avrà nulla da temere. Lavoro. La posizione di Giove sarà favorevole, e professionalmente le cose andranno piuttosto bene. Cancro. Amore. Queste giornate di aprile potrebbero non essere semplici. Questa settimana in amore potrebbe essere caratterizzata da alcune decisioni importanti, e non facili da prendere. Lavoro. Per ottenere qualcosa di veramente buono sul posto di lavoro potrebbe essere necessario attendere un po'. La fortuna si farà attendere, ma potrete comunque impegnarvi e progettare. Leone. Amore. Questa nuova settimana del mese potrebbe non essere molto fortunata in amore, ma ciò non significa che le cose andranno male. I sentimenti più forti arriveranno probabilmente solo con l'arrivo dell'estate. Lavoro. La situazione lavorativa sarà simile a quella amorosa. Continuate a impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi. Vergine. Amore. Un periodo di emozioni forti e increscendo. Sarà una settimana piacevole, sia per chi è in coppia, sia per i singola alla ricerca di una bella conoscenza. Lavoro. Sarà un momento non semplice per la vostra professione. Le stelle non saranno di grande aiuto questa settimana, con la posizione di Saturno contraria. Bilancia. Amore. La nuova settimana di aprile potrebbe portare cambiamenti in voi stessi, e nei rapporti personali, influenzati dalla posizione delle stelle e dalla nuova stagione. Lavoro. In ufficio vi farete notare, mostrando le vostre capacità e le vostre idee. Professionalmente, qualcosa inizierà a cambiare. Scorpione. Amore. Avrete una settimana che potrebbe regalarvi qualcosa in più. Sia le coppie che i single potranno godersi emozioni che potrebbero rafforzare i legami. Lavoro. Professionalmente le cose potrebbero andare molto bene, con le stelle in buon aspetto, soprattutto Saturno. Sagittario. Amore. Le stelle proteggeranno l'amore, rendendo questa settimana piuttosto buona e potenzialmente ricca di emozioni. È improbabile che ci siano problemi nei rapporti personali. Lavoro. Sarà un periodo importante per il vostro lavoro. Anche se avrete voglia di impegnarvi in qualcosa di nuovo, fate attenzione a non esagerare, soprattutto se state pensando a un cambiamento radicale. Capricorno. Amore. Questa settimana potrebbe portare cambiamenti o novità. Le stelle vi supporteranno nelle decisioni da prendere. Lavoro. Le giornate lavorative potrebbero mettervi di fronte a una scelta importante, anche se complicata. Acquario. Amore. Potreste non essere ancora riusciti a superare alcune situazioni sentimentali o emotive. Le stelle potrebbero non portare miglioramenti, quindi è importante prestare attenzione ai rapporti personali amorosi. Lavoro. Potreste incontrare ostacoli sul posto di lavoro, che vi impediranno di portare avanti un progetto, o di impegnarvi come vorreste. Potrebbe essere necessario attendere un periodo migliore. Pesci. Amore. Questa settimana di aprile sarà molto positiva in amore, grazie alla presenza di venere nel segno. Saranno giorni favorevoli, sia per chi è in coppia sia per i single. Godetevi le emozioni in arrivo. Lavoro. La settimana sarà interessante anche sul fronte lavorativo, con energie forti, grazie a un ottimo aspetto di Marte. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. Grazie.